Ti picchio così che ti distruggo la macchina, guarda come te la distruggo, non ti puoi permettere di avere i capelli uguali i miei, solo io posso avere questi capelli, hai capito? Ehi ragazzi come va? Io sono Ferinichi, io sono Steph e chi si chiama Roblox! E ovviamente ragazzi oggi siamo tornati su Bloxburg, il primo episodio è stato un successone, ci avete lasciato quasi 1500 likes, è stato davvero incredibile, ci avete dato un supporto enorme, quindi grazie, grazie per aver approvato questa serie! Esattamente ragazzi, siete davvero fantastici, vi è piaciuta tantissimo questa mappa come sta piacendo tantissimo anche a noi, e infatti dalle scorse episodi noi non siamo mandati via, siamo qua fermi a pescare da 48 ore, mi mancano 4 pescerini per un'altra promozione, dopodiché se non cambia nulla, quest'oggi proviamo un nuovo lavoro! Assolutamente sì! E lo sceglierà Ferinichi perché comunque il primo alla fine l'ho scelto io! Allora sarà difficilissimo perché mi piacerebbero davvero tutti da provare, ti dico la verità, sarà davvero molto 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 difficile, però cercherò di scegliere qualcosa di divertente per entrambi! Mi raccomando, scegli qualcosa di bello, mentre in basso a sinistra finalmente è comparso il mio personaggino, e se vedete mi avverte proprio che ho fame perché in questo momento il mio personaggio ha fudi a rivedere tutti questi pesci, gli è venuta un po' di fame! Assolutamente! Andiamo a festeggiare a casa mia la promozione con io che cucino, ti cucino qualcosa oggi! Uh bello! Come mi cucini di buono? Di buono non lo so, non ti allargare! Vedremo il menù e sceglierò qualcosa di buono, dai, secondo me andrà bene riuscire a cucinare qualcosa di buono, dai, sono fiduciosa, sono molto fiduciosa! Io non mi fiderei! Mentre Ferinichi arriva, dato che ormai vive dall'altra parte dell'isolato, ha deciso di allontanarsi, mi metto a iniziare a cucinare, così quando arrivi, capito, è già tutto pronto! È già tutto pronto, tutto bello caldo, pronto da mangiare! Allora, prendi ingredienti, ok, posso fare solo l'olio a dog! Vabbè dai, è giusto, è l'inizio cucinare! Guarda! Ma scherzo! No, voglio venire a vedere chi cucinare! Senape, pane e wustel! Fantastico! Allora, cucina l'olio dog! Guardiamo come Steph cucina! Allora, mettiamo i wustel nella padellina per scaldarli un pochettino! Attento a non bruciarli! Attento a non bruciarli! Li mettili nel piatto! Li stiamo per bruciare, lo so! Prendi il pane e addirittura la senape istantanea! No, è la cosa più fantastica che io abbia mai visto! Guarda se adesso puoi comprare altre cose nel frigo! Certo! Sto morendo di fame! Allora, è questa! Sono arrivata a casa! Eccomi, eccomi! Voglio assaggiare anch'io lo dog di Steph! Vediamo! Allora, sediti nella sedia per favore! Ok, giusto, hai ragione! Adesso puoi assaggiarla! Guarda come se lo mangia! Ma tutto in una volta! Vuol dire che è buono! Vuol dire che è davvero buono questo dog! Miam, 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 miam! Sicuramente! Oh, e mi ha sfamato bene! Mi ha sfamato bene! E addirittura il mio personaggio adesso ha l'icconcina con Delicious Meal! Anche mio! Cioè, piatto delizioso! Sei stato davvero bravissimo! Lo so! Sei stato bravissimo! Grazie mille! Guarda l'orologio come va in fretta in questo gioco! Lo vedi? Oh, mamma mia! Ma perché corre così tanto il tempo? Non lo so, però sarebbe bello se facesse così quando sei a scuola! Davvero? No, sto leggendo un libro per sbaglio, aiuto! Fa male! Smettila, smettila! Aiutate! Allora, ma io voglio giocare con Puppazzino! Mi sono messa a giocare con Puppazzino nella tua stanza perché è davvero bello e non ce l'ho Mentre giochi mi faccio un pisolino! Ok, va bene! Avevo un po' di sonno, sai! Hai ragione! Ho lavorato molto oggi! Poi dopo che mangi, sei come con la pancia piena, ti viene un po' il sonno! Comunque! Allora, allora, allora! Diciamo un pochettino! Abbiamo cucinato, dopo proviamo a cucinare un piatto un po' più avanzato! Ma le altre cose che facciamo oggi sono provare un altro lavoro che sceglierà Ferrenichi E provare a mettere la piscina in casa! Wow! Ok! Wow! Ok! Questo è un sogno che si avvera! Quindi, preparatevi! Io non so quanto costa, quindi non so se potremmo davvero farlo! Però, questo è l'obiettivo di oggi! Ok! Ho bisogno di guardarmi un po' di tv perché mi sto annoiando! È arrivato il momento di scegliere il nostro nuovo lavoro! Allora, vediamo, vediamo! Saranno decisioni difficili! Dai, dai, dai! Ah, cassiere! Qualcosa di divertente! Cassiere al supermercato, gelataio, andiamo di parrucchiere così è nuovissimo per tutti! Ok, però poi il meccanico comunque lo faremo, ma lo facciamo in futuro! No, è super divertente il meccanico, te lo dico! Andiamo a tagliare i capelli! Uh, è bello, è bello! Non so cosa aspettarmi, ho paura per i clienti perché potrei fare qualche taglio un po'... Sì, magari qualcosa un po' troppo fresh, che non può piacere ai clienti! I clienti potrebbero non capire il nostro fresh! Esatto, esatto! Ho scoperto il mitofono! Potremmo far fallire lo studio, quindi... Buongiorno, clienti! Buongiorno! Allora, io quale prendo? Ci stanno invitando a un party! Che facciamo? Andiamo al party, andiamo al party! Andiamo al party, dai, andiamo al party! Ti dicevo, le ho fatti i capelli lunghi, Rossi mi ha insultato! Io non ho capito cosa ho sbagliato! Anche a me è una... È difficilissimo sta lavoro! Abbiamo scelto un lavoro difficile! Comunque parti! Infatti ce ne andiamo a fare festa! Praticamente... No, è un lavoro difficile! Questa era difficile! Abbiamo sbagliato a scegliere! Buongiorno! Buongiorno! Sì, sappiamo che abbiamo finito di lavorare! Si chiama Principessa Kimzi! Questa invece, Iavera Power, è la nostra consolina! Esatto! Quindi facciamo un party con i consolini! Sì, buongiorno! Ci apre? Allora, aspetta! Possiamo entrare con lei? Salutiamo perché non facciamo i maleducati! Ai! Perché giustamente ci sta invitando! Ok, come funzionano questi party? Allora, io mi siedo qua! Mi sembra comodo questo divanetto! Allora, siccome lei è la proprietaria della casa, dovrebbe organizzare qualcosa! Tipo un po' di musica, un po' di... Un buffet, qualcosa del genere! Ho un po' di fame! Ci offre qualcosina! Non vorrei essere scortese! Però, di solito si offre un bicchierino d'acqua, un po' di Coca-Cola, un panino! Uh, guarda quanto cibo! Vieni! Eh, vabbè! Ma allora ho preparato tutto! Ci mangiamo tutto! Allora... Ascolta, nessuno se n'è accorto, quindi ci mangiamo tutto noi! Io voglio il taco! Ok! Voglio assaggiare il taco! Aspetta! E io mi prendo un super hamburger! Uh, guarda! Mi mangio il taco! Vai! Pronto? Vai! Pronto? Vai! Oh mamma mia, che carini che siamo! Se li divorano! Miam, 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 miam! Se li divorano! Che buono! Grazie! È buonissimo il suo cibo! Ah, ma so in che cibo qua! No, vabbè! Poverina, ha cucinato tantissimo! Che carina! Vai! Abbiamo dei clienti da soddisfare! Allora, io vado da questa signorina, tu vedi l'altro! Allora, vuole dei capelli spettinati, vediamo! Vediamo cosa ti posso fare per renderti felice! Faccia vedere, faccia vedere! Eh, me li chiede grigi, quindi dovrebbe essere questo sì! Felicissima! Bravissima! Perfetto! Vai tu, vai tu, vai tu! Allora, grey long hair cut! Allora, quindi me li chiesti grigi e me li chiesti lunghi! Quindi, un taglio lungo! Allora, questo! Long, long! Quello, quello! Vai! Fantastic! Bravissimi! Sono troppo felici! Dai, io vado da lei! Allora, di nuovo! Eh, ma lei è già bellissimo così! Ma perché si vuole cambiare i capelli? Ma sta già benissimo! Siamo arrivati di nuovo alla promozione! Quanto siamo bravi a fare questo lavoro! Bravissimi! Abbiamo fatto un sacco di soldi! Allora, io direi che è il momento di tornare a casa e vedere se ci possiamo permettere la piscina! Ma assolutamente sì! Ok! Assolutamente sì! Mi hanno pagato 266 per il lavoro che ho svolto, sono stato bravissimo! Bravissimo! E lasciamo il negozio così, aperto, i clienti rimarranno alle seduzioni! Qualcuno andrà a lavorarci! Qualcuno proprio andrà a lavorarci! Senza problemi, a noi che c'è frega! Per festeggiare le promozioni, secondo te cos'è? Una torta! Un pancake! Esatto! Uh, lo sapevo! Lo sapevo! Dall'impasto ho detto una torta e un pancake! Allora, giriamo un pochettino! Poi, si prende la padellina, si mette sul fuoco, si inizia a girare un po', miracolo! Bravo, Steph! Bravissimo! Forza! Prendine uno e assaggia! Uh, vediamo! Ok, mangiamo! Oh! Oh, buonissimo! E mangia sempre la stessa amore, ok! Buonissimo, però! Io ho bisogno di farmi un pisolino! Ok! E tu ti sei messo a giocare! Perché avevo il divertimento al 6%, giusto per farti capire! Ero proprio annoiatissima! Gravissimo! Ho costruito una piscina bellissima! Allora, chiudi gli occhi! No, l'ho già vista dalla finestra! No, 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 no! Ok, vai! Vieni, seguimi! Ok, non sto guardando da quella parte! Esatto! Esatto! È una pozzanghera questa! È una pozzanghera! Purtroppo costa moltissimo! Cioè, davvero non sei riuscito a farlo perché sto troppo! Si riesce a nuotare! Guardami! Guarda quanto spazio c'è per nuotare! Oh no! Eh? Che dici? Sembra un laghetto per le tartarughe, ti dico la verità! O per i pesci, perché davvero... Allora, spara! Quanto è costato questo quadratino? 200? 2000! Eh vabbè, ma sono esagerati! Cioè, sembrano i prezzi reali di una piscina! Io per fare una piscina, almeno di una grandezza, normale, non era neanche gigante, mi stava chiedendo 18.000! E quindi ho optato per una pozzanghera! Però direi che è meglio non fare un party per ora, perché potremmo perdere tutte le amicizie che abbiamo! Siamo così, che ancora non abbiamo, però ce le potremmo chiudere tutte le porte! Per sempre! Che per il prossimo episodio, e lavoriamo tantissimo, guadagniamo un sacco di soldi, costruiamo la piscina, poi ovviamente nel video, e facciamo un bellissimo party! Mi sembra la cosa più adatta, anche perché così da poveracci non puoi neanche fare un piccolo buffet, non puoi mettere uno stereo, e sarebbe noiosissimo! Siamo davvero messi male! Scusate! Allora, andiamo a bussare, vediamo se ci invita! Si sono confusi, perché questa è casa nostra, ok? E pensano che sia casa loro, quindi un attimino, sistemiamo le cose, allora chi sei? Illuminati! Ora si capisce tutto! Ora si capisce! Ma vabbè, ma guarda il cortile, è la cosa più fantastica che io abbia mai visto! Ma possiamo aprire, no, peccato! Allora, c'è il cortiletto, non vieni dall'altra parte, perché... Allora, vieni qua! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Guarda! No, vabbè, ma è bellissimo! Ma possiamo mangiare tutto? Aspetta, aspetta, questa è una pizza! Non posso prenderla! Ma sai perché? Perché non c'è invitati! Guarda che bel quadro! No, ma è fantastica, sta a casa! C'è pure il violino, anzi, una chitarra! Bello! Andiamo dentro! Ma ti rendi conto di quello che si può costruire, che è davvero epico? Scusi! Ci inviti! Qualcuno ci apra! Ci inviti! Guarda il piano! Guarda il piano, no, vabbè! Guarda il quadro a destra! Vabbè, è fantastico! Ma ci siamo ad arrivare, eh? Seguimi, seguimi, seguimi! Andiamo in piscina, andiamo a meno in piscina! Siamo un po' i ladri di questa casa, passala qua! Oh no! Non si può! Aspetta, così! Saltiamo gli alberi! Esatto! Salta gli alberi! Questa sì che è una piscina, in questa ci si possiamo buttare! Guarda! Possiamo prendere a calci i palloni, guarda! Ah, ma puoi cliccarli? No! No, li hai fatto sparire! Gli ho perso il pallone! No, no! C'è una macchina, c'è una macchina! Aspetta, vieni, vieni, vieni! Vediamo se è lui! Buongiorno! Sì! Salve! È il signor illuminato! Buongiorno! Ci fa entrare? Ma puzza un po', lo vedi che... La prego, per favore, è un po' sospetto però, eh! Beh, secondo me non è niente che la tua... Io sto notando solo una cosa! Che c'ha un procione sopra la testa! Che tu ancora non hai notato! Come hai fatto a non notarla? Che cosa? Ai miei capelli! Uguali! No! Allora, non esiste che ai miei capelli... Un procione è una casa più bella della mia, cioè... E la piscina! Questa sarà la mia nemica numero uno del quartiere! Dalli un cazzotto! Dalli un cazzotto! Interact! Non posso picchiare... Ti picchio così che ti distruggo la macchina! Guarda come te la distruggo! Non ti puoi permettere di avere i capelli uguali i miei! Solo io posso avere questi capelli! Hai capito? E puzzi! Guarda la puzza che esce da questa macchina! Guarda! Guarda! Secondo me è ferma perché sta chiamando la polizia! Ti ammazzo! Sono offensissima! Stai dicendo c'è una poveraccia fuori di casa che mi disturba! Allora, quella che puzza è lei, non sono io! Cioè, guarda la puzza che esce dalla macchina! Quindi lei è una poveraccia che neanche si lava! Vorrei dire questo! È il procione, secondo me, che lascia un po'... Hai spostato un po' la macchina! Non ce la facciamo anche noi, no! Vabbè! La distruggo! Comunque la macchina è bruttina rispetto alla casa, eh! Non vorrei dire... Ha risparmiato nella macchina! Mettiamola così! Mettiamola così! Oppure sei venuto alla macchina per comprarsi la casa! No! Potrebbe essere anche... Quello! Che succede? No! Le fedi? Te l'ho detto che le hai fatte scappare! Hai esagerato! La polizia non arrivava ed è scappata! Dimmi che non sei meritato! Dimmi che non sei meritato! Cioè, i console limiti hanno una ragione di essere meritato! Cioè, solo io posso avere questi capelli! Scusami! Vabbè! Solo io! In ogni caso, ragazzi, ci fermiamo così per questo secondo episodio! Lasciateci tanti likes per supportare questa serie! Perché in base a quanto vi piace, decideremo quanto far lunga questa serie! Scusa un attimo! Ragazzi, il prossimo episodio è il party! Certo che lo dovete supportare! Ma certo che lo dovete supportare! Non lo so se ci arriviamo ai suoi livelli per la piscina! Ci speriamo! Ci impegneremo! Ci impegneremo! Altrimenti mettiamo una radio fuori! Due pezzetti di pane! No, magari dei tavolini! Di coriandoli! No, faremo un bel party! Faremo un bel party! Beh, ragazzi, ci vediamoci così su YouTube! Sentiteci un bel like! E se la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!